Furti in serie purtroppo rovinare il Natale di diverse famiglie residenti nelle frazioni ravennati. Nei giorni e le notti del 25 e del 26 dicembre, San Pancrazio, Campiano, Ragone e anche Sant'Antonio sono state ripetutamente attraversate da scorribande di ladri che sono entrati nelle abitazioni lasciate deserte dai proprietari usciti a festeggiare le ricorrenze natalizie con i parenti. L'intensa attività delle bande malavitose è stata monitorata da lecciade di WhatsApp di vicinato appartenente ai diversi gruppi nati sul territorio provinciale da dove sono partite le segnalazioni in particolare alle forze dell'ordine. A Campiano i ladri hanno alternato i diversi obiettivi, casi isolate o complessi condominali sempre alla ricerca di piccoli oggetti di valore o di denaro da portare via velocemente senza rischio di ingombro. Sono almeno sette le abitazioni visitate dai ladri a sud di Ravenna fra il 25 e il 26 dicembre. In un'abitazione in pieno pomeriggio i ladri sono stati costretti alla fuga dopo essere entrati convinti di trovare i locali vuoti trovandosi invece in presenza dei proprietari. A San Pancrazio il 26 dicembre altre tre case sono state colpite dai topi d'appartamento. In una villetta, ha segnalato il proprietario su Ravenna SOS chat, i ladri sono entrati dopo aver bloccato il cancello automatico con il filo di ferro e dopo aver scassinato la porta d'ingresso. È stato lo stesso proprietario a sorprendere i malviventi al suo ritorno a casa non potendo entrare con l'auto nel proprio cortile a causa del cancello bloccato. Il proprietario ha così iniziato a suonare il claxon mettendo in fuga gli intrusi, quando però ormai le stanze erano state messe a soccuadro. Altre situazioni simili sono state segnalate nelle frazioni del Forlivese a sud di Campiano, in particolare fra Carpinello, Pieve Quinta e Cappona. A Ragone la segnalazione più inquietante con i ladri che si sono presentati in un paio di abitazioni intorno alle 19, in quattro e muniti di mazze. Nella prima casa visitata sono stati costretti alla fuga per le campagne da alcuni rumori, ma solo dopo essersi lasciate alle spalle diversi danni. La seconda abitazione invece è stata messa sotto sopra.